Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta oggi in una fabbrica bruciata a causa dei vasti incendi che sono scoppiati nella periferia nord orientale di Atene, Domenica. Diverse aree sono state evacuate mentre i venti forti hanno ostacolato gli sforzi di centinaia di vigili del fuoco e di decine di Canadair al lavoro nelle operazioni di spegnimento. L'agente del posto si è unita ai soccorritori per spegnere l'incendio in un soborgo settentrionale di Atene. Il massiccio sforzo per contenere i roghi ha coinvolto 702 vigili del fuoco e 27 operatori del comando forestale, con 199 autopompe, 35 mezzi aerei e molti volontari. Le autorità hanno dichiarato che altre 15 persone sono rimaste ferite, per lo più a causa dell'inalazione di fumo, mentre l'incendio ha raggiunto la periferia di un soborgo a circa 15 chilometri dal centro della città. Il rogo si è sviluppato nelle foreste di pini lasciate a secco dalla siccità e dalle ripetute ondate di calore che hanno colpito la Grecia quest'estate. Il governatore della regione russa di Kursk, Alexei Smirnov, ha dichiarato che l'Ucraina controlla ora 28 insediamenti con una popolazione di circa 2000 persone. Smirnov ha anche affermato che le forze di Kiev sono avanzate in territorio russo per 12 chilometri di profondità e 40 chilometri di larghezza. L'Institute for the Study of War fa riferimento a funzionari russi che hanno riconosciuto che i gruppi mobili ucraini sono avanzati fino a 25 chilometri nel distretto di Belovski, ma non ci sono indicazioni che questi gruppi siano rimasti nell'area. Nella sua ultima analisi il think tank statunitense ha affermato che l'incursione nella regione di Kursk ha permesso alle forze ucraine di prendere temporaneamente l'iniziativa sul campo di battaglia in un'area del fronte, in quanto ha costretto il Cremlino e il comando militare russo a reagire e a dislocare forze e mezzi nel territorio russo in cui le forze ucraine sono penetrate. Il governatore della regione nord-orientale di Kharkiv ha detto di vedere una forte diminuzione dei bombardamenti guidati nella regione. Un funzionario ucraino ha comunque dichiarato all'AFP che le forze russe continuano a fare pressione nell'Ucraina orientale e che il comando militare russo non ha ritirato le truppe da quell'area del fronte. Tornare liberi dopo quasi due anni di detenzione e poter sposare la propria compagna. La nuova vita di Alexander Skocilienko in Germania passa anche dai diritti civili. A differenza della Russia, dove i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono vietati, il paese europeo permette delle unioni civili. Il gruppo di Scocilienko in Germania è di solito la ragazza della città. La ragazza di sicurezza dei sessi e alcuni della ragazza di diritti che guardano i ammbracchi di diritti sicurezza. La ragazza di sessi e cari che i ragazzi sono vittorio in migliorare in segnale, le ragazza di diritti in segnale. Cosa è venire per la ragazza di diritti da loro ragazza di diritti da loro attacchire. L'artista e dissidente russa, rilasciata il primo agosto scorso nel più grande scambio di prigionieri tra Russia e Occidente dalla guerra fredda, potrà infatti ora sposarsi con la compagna Sonia Subotina. A poco più di un mese dall'inizio dell'invasione russa, il 31 marzo 2022, Sasha Scocilenko ha sostituito i prezzi dei prodotti sugli scaffali di un supermercato di San Pietroburgo, con cartellini contenenti i nomi delle vittime di Mariupol e le informazioni su crimini di guerra commessi dalle forze armate russe. Nel 2023 è stata condannata a sette anni. L'intervista di Elon Musk e Donald Trump su X ha avuto problemi tecnici. Secondo il proprietario del social network si sarebbe trattato di un massiccio cyberattacco. Gli utenti hanno infatti segnalato problemi di accesso alla diretta e per questo l'intervista è cominciata con 40 minuti di ritardo. Musk e Trump hanno affrontato vari temi, dalla politica interna con l'immigrazione e l'attentato subito dal tycoon in Pennsylvania, a quella estera, con le tensioni fra Iran e Israele e la guerra in Ucraina. Non è mancato un commento su Kamala Harris in vista delle elezioni di novembre. Migliaia di persone sono scese in piazza lunedì a Bratislava per protestare contro le recenti decisioni del Ministero della Cultura di licenziare il direttore del Teatro Nazionale Slovacco e la direttrice della Galleria Nazionale Slovacca. Secondo gli organizzatori, 9.000 persone tra artisti e lavoratori dello spettacolo hanno partecipato alla manifestazione, fermandosi proprio di fronte al Teatro Nazionale e all'edificio del Ministero della Cultura nel centro della capitale. I manifestanti sono scesi in piazza per denunciare la repressione delle arti e accusare la ministra di bugie totali verso personaggi stimati. I due direttori silurati a inizio agosto dalla Ministra della Cultura Martina Simcoviciova l'avevano accusata di danneggiare le arti dopo aver tagliato i finanziamenti a molte istituzioni, che a suo dire alteravano la cultura nazionale con elementi stranieri o liberali. Oltre 150.000 persone hanno già firmato una petizione per la destituzione della Ministra della Cultura. Quasi 200.000 cittadini avevano firmato un appello simile all'inizio dell'anno. Simcoviciova è comunque rimasta in carica anche dopo che l'opposizione ha tentato di richiamarla in Parlamento. Firmato dalla Polonia un contratto per la realizzazione di 48 lanciatori per i sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot, progettati dagli Stati Uniti, per potenziare le capacità militari di Varsavia. I lanciatori M903 saranno prodotti presso l'acciaieria Stalowa Vola in Polonia. Invecezioniamo in polske promesse obronne, in siu izbrojne Rzeczpospolitei, in riecz bezpieczeństwa nasi e i nostri sojuszników. Secondo l'accordo, i sistemi dovrebbero essere consegnati all'esercito polacco tra il 2027 e il 2029. La Polonia ha inoltre deciso di rafforzare il tratto di confine di 230 km che il paese condivide con la Russia, con investimenti da 2,5 miliardi di euro. Il sarcofago ritrovato da un agente delle forze dell'ordine alla fine di luglio su una spiaggia di Varna, in Bulgaria, sarebbe dell'epoca romana. Secondo l'archeologo Alexander Minchev, il periodo si colloca tra il II e il III secolo d.C., nonostante alcuni dettagli suggeriscano che l'oggetto risalga al II secolo. Il sarcofago si trova ora al Museo archeologico di Varna, dove verrà analizzato dagli esperti. Il ritrovamento ha destato perplessità sulla conservazione del patrimonio culturale nel paese. Il ministero dell'interno bulgaro non ha rilasciato ulteriori dettagli su come il sarcofago sia finito su una spiaggia. Uno dei luoghi più singolari dello Ziggett Festival di Budapest è la XS Land, dove gli spettatori possono sperimentare cosa significhi vivere come una persona con delle disabilità. Qui si possono svolgere una serie di attività che vanno dalla scherma su sedia a rotelle alla pittura senza mani. Mi piace questa esperienza, è divertente provare qualcosa di più, ma ci rende capire che senza le mie lezze è davvero difficile fare qualcosa. Nel giornalista vita sarebbe davvero facile, ma non pensi di nemmeno niente. Oltre a fornire intrattenimento, le associazioni mirano a plasmare gli atteggiamenti dei frequentatori del festival. L'unico più importanti è che le tappariamo le persone e che le tappariamo le tappariamo le tappariamo le tappariamo le tappariamo. Le previsioni meteo per mercoledì 14 agosto di Globus Television. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà indisturbato su gran parte del territorio regionale. Temperature massime fino a 39 gradi. Mari, Marionio da quasi calmo a calmo. Martirreno, mare da calmo a poco mosso. Stretto di Sicilia poco mosso. Stretto di Siciliaормaria. Stretto di Sicilia talvez and honesty di southern Canada.